Anticipazioni Beautiful, martedì 25 maggio 2021. Liam telefona a Hop mentre si trova a Malibu. Lei dice di aver scoperto qualcosa di molto importante. Flo è con Shauna e spiega alla madre il motivo che l'ha spinta a consigliare a Wyatt di ritornare con Sally. Poi il discorso si sposta sul matrimonio di Brooke e Ridge. Entrambi si convincono che i loro problemi di coppia siano collegati alle azioni del Forrester. Ora si chiedono se il ragazzo si è davvero cambiato e se sposerà davvero la Buckingham. Shauna ritiene che se Brooke e Ridge intendono tornare insieme non può che essere felice per loro. Rimasta sola però ricorda con nostalgia i momenti passati con lo stilista. Nel frattempo Hop arriva a Malibu e Steffi non esita a raccontare quanto è accaduto la sera del bacio. Dice di essere stata manipolata da Thomas, ecco perché si è avvicinata a Liam. Le ricorda poi che lo Spencer ama una sola donna, Hop Logan. Ridge intanto aggiorna Brooke, c'è da festeggiare. Il giorno dopo Thomas sposerà Zoe. Impietrita la Logan crede che si tratti dell'ennesimo strata gemma del ragazzo per riavere Hop. Grazie per la visione!